Per le prossime ore ancora questa avvezione di aria fredda proveniente dai Balcani determinerà fenomeni di debole instabilità, in particolare dalla tarda mattinata dei domani fino alla mattinata di mercoledì avremo delle deboli precipitazioni a carattere nevoso fino a quote pianeggianti, in particolare lungo la fascia costiera. Questi fenomeni saranno di breve durata e irregolarmente distribuiti lungo la fascia costiera, però localmente potranno determinare dei fenomeni, dei disagi soprattutto per la circolazione. Poi dal pomeriggio di mercoledì la situazione è in graduale miglioramento, con temperature in lenta ripresa e da giovedì saremo fuori dal pericolo di ulteriori fenomeni nevosi, con temperature in netto aumento. Possiamo quindi dire che da giovedì, stando alle attuali previsioni, potremmo essere fuori da questa andata di maltempo? Sì, saremo fuori da questa andata di maltempo caratterizzata da aria fredda proveniente dai Balcani, però poi arriverà una nuova perturbazione per il fine settimana a partire dalla seconda parte di venerdì, questa volta di origine atlantica, quindi sarà più calda e apporterà delle precipitazioni. Quindi per il fine settimana al momento è prevista della pioggia? Sì, già prevista della pioggia con temperature in aumento. Grazie.